Assessore Guidesi, Regione Lombardia mette in campo un pacchetto economico per sostenere le start-up che vale 72 milioni di euro. Sì, una serie di interventi, una serie di strumenti e devo dire anche estremamente innovativi, tanto quanto lo sono le idee delle start-up. L'intenzione nostra è quella di fare in modo che le tante idee innovative di cui disponiamo e di cui dispone questo territorio e questa regione, grazie anche al supporto delle università, si possano concretizzare in aziende oppure nel mettere a disposizione queste idee alle filiere produttive che grazie a queste si innovano e si rinnovano. Per cui noi stiamo cercando una sorta di connessione, ma anche degli strumenti da mettere a disposizione dei più giovani per fare in modo che trovino e continuino a trovare nel nostro territorio un'opportunità e una sfida per il futuro. Tra gli strumenti anche quelli finanziari? Sì, assolutamente sì, che stanno nella messa a disposizione da parte nostra a livello istituzionale, per cui in un percorso che non è solo il premio, che non è solo il riconoscimento dell'idea, ma è soprattutto lo strutturare un percorso. In questa strada la Regione Lombardia deve essere al fianco di queste idee, di queste start-up. È per questo che abbiamo inserito tanti strumenti, stiamo provando di inserire alcuni strumenti dal punto di vista finanziario, ma è anche per questo che facciamo noi la connessione con il mondo della finanza alternativa, per fare in modo che idee, supporti dal punto di vista finanziario, si connettano e si concretizzino. Grazie.